Allora, buongiorno ancora a tutti, è lunedì mattina quindi potremmo aver sbagliato l'aula, ma se non abbiamo sbagliato l'aula siamo qua per iniziare il corso che si chiama tecniche di programmazione, in breve TDP, che ci terrà compagnia per le prossime cento ore circa, spaventa un po' dirlo così, ma poco per volta lo affronteremo. In questo corso saremo tre docenti diversi, visto anche la quantità di ore che ci sono, diciamo così, calendario. Io sono Fulvio Corno e poi ci saranno due ricercatori, che sono Giuseppe Averta e Carlo Masone, che si alterneranno sia un po' nelle lezioni, quindi tipicamente io otterrò i due terzi delle lezioni e invece un terzo otterranno i collaboratori e Giuseppe e Carlo si occuperanno prevalentemente anche della parte di laboratorio, che è una parte essenziale sia in termini di ore che in termini di contenuti di questo corso. Come vi racconterò, è un corso molto pratico e operativo, per cui alla fine ciò che conta è imparare a fare ciò che viene richiesto, quindi il laboratorio è il momento in cui si impara di più. Allora, vi racconto solo, spendo un po' di tempo a raccontarvi quattro cose in generale, sull'organizzazione del corso, sui contenuti, eccetera, prima poi di tuffarci nel materiale vero e proprio. Obiettivi. Allora, credo che sia, se non ho contato male, l'undicesimo anno in cui viene erogato questo corso e all'epoca, quando fu istituito, mi chiesero, vai a fare un corso di algoritmi per i gestionali. Io già mi immaginavo centinaia di gestionali a inseguirmi con i bastoni, perché, ah no, ma a me non interessa gli algoritmi così come li fanno, ad esempio, gli informatici in cui si entra nel dettaglio di alcune cose, dell'implementazione, eccetera. E quindi abbiamo cercato di immaginarci un corso che, sì, vi aiutasse, diciamo, a comprendere alcuni concetti, alcune tecniche di, diciamo così, più avanzate rispetto a quello che già conoscete, di gestione di algoritmi, di strutture dati, ma cercando di orientarlo verso problemi, non dico reali, è una parola grossa, problemi reali sono sempre più difficili di quelli che riusciamo ad affrontare in classe, ma realistici. Ok? Quindi l'idea è impariamo delle tecniche che ci aiutino ad affrontare, impostare e risolvere dei problemi, problemi che si possono ovviamente risolvere per via informatica, per via algoritmica. E quindi cercheremo di capire certe tecniche, diciamo, con algoritmi che a cosa servono, come si usano, eccetera. Non andremo quasi mai a entrare a vedere come si implementa un certo algoritmo, perché grazie al fatto che usiamo tutto, diciamo così, l'ecosistema del linguaggio Java, ci affideremo a delle liberie già pronte dove queste, diciamo così, strutture dati, eventualmente questi algoritmi sono già implementati. Quindi più che implementare algoritmi, che è cosa che non faremo, impareremo ad usarli e ad applicare dei problemi. Nel farlo cercherò di usare insieme a voi degli strumenti che si usano anche poi nel mondo del lavoro, anziché, vabbè, a parte il solito Eclipse che ormai abbiamo imparato tutti a odiare, che è uno strumento che viene usato anche professionalmente al di fuori dell'università, ma anche, vedrete, gli strumenti che useremo per condividere il materiale didattico, gli esercizi, per fare lo stesso esame, sono gli strumenti che fanno parte del bagaglio operativo, quotidiano, diciamo degli ingegneri informatici, ma più in generale degli ingegneri. Parlo, ad esempio, del sito GitHub e parlo di altri strumenti di collaborazione. Quindi questa è quell'etichetta che è chiamata Real World Software, quindi pensando di usare degli strumenti che siano realistici, di nuovo uso realistici non reali per il motivo di approssimazione di cui sono. E poi cerchiamo di inventarci dei problemi che in qualche modo siano tratti da problemi reali. Quindi ciò che faremo non sarà mai di andare a prendere, magari studiamo un algoritmo di ottimizzazione di un percorso, non ci andiamo a fare un percorso con quattro nodi fatti a mano, che potresti risolvere sulla carta, ma andremo sempre a prendere, a lavorare con dei dati, tanto ormai oggi su internet si trova di tutto, con dei dati reali scaricati da qualche fonte più o meno ufficiale, più o meno disponibile. E quindi impareremo a usare e a lavorare con dei dati appunto anche corposi come dimensione, ma soprattutto reali non inventati. Questo durante il corso. Quindi per fare gli esempi, per fare un esempio inventato, cerchiamo di fare un esempio che tragga da delle informazioni, da dei dati reali. Con la speranza che questo vi possa servire, diciamo così, anche dopo la fine del corso, che è poi l'obiettivo vero e proprio. Poi se io volessi espandere questi tre concetti, problem solving, software realistico e problemi realistici, lo espanderei sotto questa serie di bullet point che al momento non ci dicono quasi nulla, nel senso che è giusto raccontare un po' il contenuto del corso all'inizio, ma il 90% di quello che vi potrei raccontare lo capiremo strada facendo o al fondo. Quindi adesso non starei a leggere o a elencare, diciamo così, i vari argomenti, le varie tecniche che impareremo. Sicuramente il corso si va a innestare molto strettamente a tre corsi precedenti, perché ovviamente se dobbiamo lavorare con dei dataset trovati in giro, questi dataset da qualche parte li metteremo e dove li metteremo se non dentro una base dati. Quindi tutto ciò che sapete dal corso di base dati, ma tutto no, una parte ci servirà all'interno del corso perché sarà il pane quotidiano andare a prendere, leggere, scrivere i dati all'interno di una base dati. Non faremo progettazione di base dati, ma faremo semplicemente utilizzo e interrogazione, questo sicuramente. Ciò che avete imparato nel corso di programmazione oggetti, anche ovviamente perché programmando in Java è la precondizione per poter lavorare, capire ciò che facciamo, e quindi ho anche la speranza un pochino, forse di mettere anche un po' nel contesto ciò che avete visto programmazione oggetti, perché avete imparato tante tecniche supportate dal linguaggio Java, ma poi forse a qualcuno è rimasta una domanda, sì ma questo a che serve? Che so, ho imparato statico, cosa mi serve da parlo statico nelle classi, nei metodi? Ecco, qua cercheremo di metterci dall'altra parte e dire, dato un problema, come ho imposto il programma per risolverlo? E lì userò gli strumenti che il linguaggio mi mette a disposizione, quindi cercheremo di contestualizzare le scelte delle varie soluzioni. Questo è grossomodo il programma settimana per settimana, dove parlando dal punto di vista degli algoritmi e delle strutture dati, ci sono quattro macro blocchi, quattro macro blocchi di argomenti. Un primo macro blocco è strutture dati in Java, quindi collection, andiamo a riprendere quello che già sapete delle collection sulla programmazione oggetti, useremo un po' di ora all'inizio anche per fare un po' un ripasso pratico, perché ci servirà ovviamente ad essere molto agili con quella parte. Ci sarà una parte sulla ricorsione, a cui dedichiamo parecchio tempo, non perché sia lungo, ma perché è difficile, quindi richiede tanti esercizi, quindi la ricorsione lo spiego in un'ora e poi dopo facciamo dieci ore di esercizi dopo, di esempi, di casi, che è un concetto abbastanza profondo, ma secondo me utile a comprendere cosa succedono le cose e soprattutto utile a comprendere poi il concetto di complessità, perché il programma ci mette sei anni anziché venti secondi a darmi risultato. Parleremo di grafi, quindi in qualche modo ci rilasciamo anche un pochino a ciò che avete visto nel corso di ricerca operativa, si chiama se non sbaglio, dove avete fatto tante belle cose sulla carta e qua invece le faremo a codice, usando una libreria che ha già dentro implementati tutti gli algoritmi che vi hanno fatto studiare, e poi l'ultima parte, l'ultimo quattro argomento è quello delle cosiddette simulazioni di eventi, cioè quando abbiamo un fenomeno, diciamo così, gestionale, e vogliamo simulare come evolve, non potendo quasi mai, perché voi nei vostri corsi di gestionale vi fanno fare i veri modellini in cui calcolate, non vi danno le formulette che dice questa cosa qua come evolve, dopodiché ha il modellino, ma poi ha 27 pagine di ipotesi che devono essere valide affinché quel modellino funzioni, però quando queste ipotesi non sono verificate sempre nel mondo reale, cosa facciamo? Non avremo mai l'equazione da risolvere, ma potremo approssimare l'evoluzione di un sistema, ma questo è l'ultimo argomento che trattiamo nel corso, quindi questi quattro macchi argomenti che vanno a confluire ovviamente tutti all'interno di un'applicazione, un'applicazione Java che implementerà la soluzione a un problema usando queste varie tecniche che vi ho citato. L'idea è, quando ho un problema per risolvere una delle soluzioni, uno dei metodi, degli approcci possibili per risolvere un problema è quello di affrontarlo algoritmicamente, quindi costruire un programma delle funzioni che calcolino per me la soluzione, non è l'unico modo, gli altri modi sono quelli di applicare dei metodi teorici, dei modelli, insomma, però qua ci occupiamo di questo. In più cercherei di superare quello che è la bruttezza oggettiva delle applicazioni software che avete visto finora, sia dal primo anno che al corso di programmazione oggetti, potevate fare il programma più figo del mondo ma alla fine era delle scritte dentro una scatola nera, io non so chi di voi si sia osato a farlo vedere a casa il fratello o la fidanzata, guarda che cosa bella che ho fatto, magari ci avete sudato ma poi alla fine ciò che emerge, no? Allora, questi vari programmini, diciamo, li incapsuleremo in un'interfaccia grafica, qui c'è sido gradevole fin troppo, diciamo guardabile, ecco mi accontenterai di guardabile, anche perché poi vedo che anche a livello di tirocini, perché alcuni, molti di voi stanno iniziando, hanno iniziato, eccetera, può tornare utile fare qualcosa che qualcun altro possa usare, che abbia essenzialmente un po' di campi, un po' di bottoni, ecco non stiamo parlando di cose alla videogame super spinto, ma almeno qualche cosa che sia utilizzabile da qualcuno che non sia colui che l'ha scritto. questo. Ok, questo è un po' lo spirito con cui cercherò, ho cercato di impostare il contenuto del corso. Vi ho accennato all'inizio che questo corso appunto è nato una decina di anni fa e la scelta delle tecnologie, dei linguaggi, delle librerie in qualche modo è figlia di quello che era lo stato dell'informatica all'epoca. Adesso le cose stanno un po' cambiando, questo, voi, buona parte di voi, forse non tutti, non so, dipende un po' da qual è la vostra velocità di studio, di progresso nei crediti, ma molti di voi dovrebbero essere la generazione che ha fatto il primo anno in Python e non più nel linguaggio C, bello, è chiuso in casa, vi ricordate? Anche per noi era stato il primo anno in cui abbiamo fatto un corso nuovo totalmente da zero, così dall'oggi al domani a organizzarlo online è stata una sfida interessante. Dicevo, quasi tutti, non tutti, per cui, diciamo così, abbiamo un anno ancora di tempo di transizione, l'intenzione, ah, non un'intenzione, sì, l'intenzione di transizione reale, l'intenzione ipotetica, dall'anno prossimo il contenuto di questo corso evolverà anche tenendo conto di questo. Quindi passeremo dal linguaggio Java al linguaggio Python e le librerie ovviamente si adegueranno di conseguenza. Questo lo dico così in previsione, a voi non interessa, se passate il corso dentro l'anno, ma normalmente dall'anno prossimo, fino a quest'anno il programma si mantiene in continuità con gli anni precedenti, dall'anno prossimo invece il programma cambierà abbastanza, ok? Poi come sempre al Politecnico diamo sempre un anno di tempo in più per sostenere l'esame col programma vecchio, ok? Quindi nessuno di voi, credo, spero, che a settembre 2025 sia ancora lì a pensare di dare questo esame. Però quest'anno rimane così, ogni tanto ci aggiorniamo, per fortuna. Ok, dal punto di vista logistico, pratico, come ci organizziamo? Vabbè, l'orario ormai lo sappiamo, perché siamo qui, abbiamo quest'aula a lunedì alle 8.30, ci hanno fatto un favore a metterci qua, e poi l'ora di pranzo al mercoledì in aula 29, e poi come dicevo, questi due blocchi di laboratorio, che sono blocchi di tre ore ciascuno, ok? Quindi sui dieci crediti di corso, quattro crediti sono di laboratorio. Siamo divisi in due squadre, un orario è un pochino più sfigato dell'altro, come sempre succede, e ciò che ha funzionato negli scorsi anni è di definire due squadre in base alla solita divisione alfabetica, prendo metà dell'elenco, dico da sopra e da sotto, ma di alternare le squadre ogni settimana. Quindi una settimana ci sarà la prima metà dell'alfabeto nella squadra 1, la seconda metà dell'alfabeto nella squadra 2, la settimana successiva le squadre si invertono, ok? Così non avete motivo di lamentarvi, in un senso o nell'altro, e quindi evitiamo di passare le prime giornate a fare scambi avanti e indietro, eccetera. Il laboratorio sarà il laboratorio dell'EP, l'avete già visto, sì, nei corsi precedenti. Vediamo un attimo come sarà la frequenza rispetto alla capienza del laboratorio, vediamo le prime settimane che di solito sono quelle più frequentate, se ci sono problemi normalmente in due per macchina si riesce abbastanza stare, anche se è un po' denso, magari si riesce. Poi di solito a me dispiace, ma per esperienza dopo le prime settimane la così detto pressione sul laboratorio tende a scendere, quindi ci sono meno problemi sia di presenza, di densità di persone, sia di eventuale scambio di orario nel caso che fosse necessario. Tre ore perché quello che vogliamo fare è darvi degli esercizi che possiate risolvere in buona parte nel tempo che vi diamo, perché molto spesso l'esperienza di laboratorio è tu arrivi lì, leggi il testo, provi a fare qualcosa, è passata l'ora e mezza e arrivi a casa e ti devi portare il lavoro da finire. La parte più difficile del lavoro la devi fare a casa e non è più nessuno a cui chiedere aiuto. Invece qua abbiamo cercato, visto che abbiamo dieci crediti, di usarli anche in questo modo. Quindi cercate di sfruttarlo perché lì effettivamente ci saranno, normalmente abbiamo appunto il collaboratore, un borsista o un borsista in mezzo, dipende da cosa riescono a darci, a cui potete chiedere per farvi aiutare. Il laboratorio parte già subito da domani, quindi a differenza di altri corsi, e da domani sarà un laboratorio essenzialmente di rinfrescare un po' la mente, ripassare, cominciare a vedere le cose che abbiamo visto oggi, ma è una cosa molto molto semplice, di solito serve anche per risolvere i problemi di installazione, di vari programmi, eccetera, che vi ho dato, vi ho indicato in un documento che adesso riprendiamo. Quindi al di là del laboratorio, appunto il resto sono queste tre blocchi di un'ora e mezza in aula, io non distingo tra lezioni e esercitazioni, nel senso che man mano che spieghiamo qualcosa e lo proviamo, quindi non ci sono divisione formale tra lezioni e esercitazioni, certamente ci sono alcune ore che sono dedicate a fare esercizi, quindi in cui non si spiega nulla di nuovo, prendiamo l'esercizio e lo risolviamo insieme. Noi faremo molto live coding qua, nel senso che prendiamo l'esercizio e lo risolviamo insieme a voi. Nel bene e nel male, è chiaro che ci vuole del tempo, risolvere una cosa piuttosto che, paf, spara su lasciarvi, la soluzione è già fatta, ma far vedere la soluzione fatta non serve a niente, né a voi né a me, lo facciamo insieme, ragioniamo insieme, quindi magari per fare un programma di 30 righe ci mettiamo un'ora, perché su ogni riga ragioniamo su come fare, come l'avreste fatta, qual è il modo migliore, eccetera, eccetera, perché poi alla fine quello che serve non è avere il codice, ma avere assimilato il ragionamento che sta dietro al codice, che è poi quello che vi troverete poi a fare sia all'esame che poi anche dopo. Quindi per quello il suggerimento che vi avevo dato era quello di portarvi il computer in aula se volete, ci sono, no? Quelle prese dovrebbero essersi sia qua che nella 29, così potete seguire o anticiparmi, diciamo così, fare lo stesso esercizio in parallelo. E ovviamente è ben gradito l'interazione da parte vostra sulle cose che faremo. Ovviamente facendo soluzioni di esercizi dal vivo capiterà di sbagliare, no? Cioè io, quando faccio questo esercizio, ogni tanto sbaglio, ovviamente, ma è normale. Ricordiamoci che è la normalità inserire dei bacchi nei nostri programmi. E impareremo anche insieme, vedremo anche insieme come cercare magari a volte di scoprirli, di risolverli, di fare un po' di debugging insieme, che è l'altra cosa importante che separa il mondo astratto dell'università dal mondo reale, quando è una cosa, la fai bellissimo, ma non funziona. E quindi, come dicono, ci metti più tempo a correggere gli errori che non a scrivere, no? Quindi quando tu hai finito di scrivere un programma non sei alla fine, sei a metà del lavoro normalmente, perché poi l'altra metà è scovare gli errori e correggerli. E quindi un pochino, no, lo faremo insieme. Io sarò privilegiato, perché ovviamente molto spesso quando faccio degli errori c'è sempre qualcuno che mi dice, ma scusi, ma lì è sbagliato? È un lusso poterlo fare, quando hai decine di persone che controllano il tuo codice è più facile non sbagliare. Invece quando lo scrivi da solo non te l'accordi, te l'accordi magari molto dopo. E poi appunto, ti dirò il laboratorio, che è la parte più importante del corso, in cui le cose un pochino si invertono, quindi anziché essere io che scrivo codice della lavagna siete voi che scrivete il codice dello stesso tipo, dello stesso tipologia di esercizi secondo gli esercizi, diciamo così, che vi proponiamo. Allora, la prima settimana sarà un pochino strana, perché abbiamo ancora bisogno di familiarizzarsi con i vari strumenti per condizioni del codice, eccetera. Dalla prossima settimana invece ci sarà, diciamo così, un ritmo abbastanza regolare in cui noi tenderemo a pubblicare il testo di esercizazione quasi sempre alla fine della settimana precedente, quindi potrebbe essere questo venerdì, per domani no, ma da questo venerdì pubblichiamo il testo per la settimana prossima e vi facciamo partire da un progetto base, non lo chiamiamo, cioè uno scheletro di software, di programma che poi dovete riempire andandolo a prendere su questa piattaforma Github, che è quella di condivisione del codice di cui vi parlavo prima, che vi racconto lunedì prossimo come funziona, ok? E poi pubblicheremo le soluzioni di questi esercizi che vi proponiamo, io tendo a pubblicarle tardi, non perché non le abbia, perché ormai le abbiamo già dagli anni scorsi, le soluzioni potrei già pubblicarle tutte subito, però per contrastare, e quindi se andate a cercare il materiale l'anno scorso le trovate, però per aiutarvi a contrastare un po' la preghizia del tipo vado a vedere come l'ha risolto lui, perché non serve a niente. Io purtroppo lo vedo quando capita all'esame qualcuno che avrebbe un esercizio e comincia a sfogliare, a cercare le soluzioni vecchie di altri esercizi, io so già che questa persona mi dispiace, ma all'esame non riuscirà a performare in modo sufficiente. Vedere una soluzione fatta da un altro non serve quasi mai, se non dopo magari aver provato a fare la tua, ma per ogni problema, questo è informatica, è progettazione, quindi per ogni problema ci sono mille soluzioni giuste. Io ne ho fatto una, ma tu ne hai fatto un'altra, sei partito in una direzione completamente diversa, impostando il problema in un modo diverso, ma è altrettanto buono. Quindi l'idea di dire è giusto se lo faccio simile al tuo, cancelliamocelo dalla testa. È giusto se risolve alla richiesta che è stata data, se risolve, implementa la specifica che è stata fornita. Poi come lo implementa può essere fatto in certi modi diversi. Ovviamente per ogni problema ci sono magari cento, mille soluzioni giuste, ovviamente ci sono milioni e miliardi di soluzioni sbagliate, che non vuol dire che qualunque soluzione sia giusta è il fatto che ce ne siano tante, però vuol dire che ciascuno in qualche modo imposterà, vedrà in quel problema da un certo punto di vista, imposterà un certo ragionamento e poi cercherà di tradurre quel ragionamento in codice e lo fa a modo suo. Poi con un po' di esercizio, con un po' di esperienza cerchiamo di evitare dei modi sbagliati che a un certo punto ti portino in un angolo cieco e diciamo da qua non lo risolvo perché mi sono dimenticato di tenere presente qualche dettaglio. Però appunto la cosa importante è provare a seguire il vostro singolo proprio ragionamento, scusate l'ho detto sette volte ma è la cosa più importante del corso. e quindi piuttosto che dire guardati le soluzioni, che non serve a niente, perché la soluzione è il codice congelato di un ragionamento che qualcun altro ha fatto di cui ti sei perso il ragionamento, io lavoro in questi due modi. Primo è risolvere gli esercizi in aula così il ragionamento lo facciamo insieme a voce. Non è che mi metto qua in solitaria e scrivo codice e voi guardate dormendo. Cioè parliamo, descrivo ciò che penso, penso a voce alta. E secondo siamo sempre disponibili, abbiamo il canale Telegram, abbiamo tante ore di laboratorio a darvi una mano e a guardare insieme a voi il vostro codice. Cioè non chiedermi come si risolve, chiedimi cosa c'è di sbagliato in quello che ho fatto. Ci sediamo lì, lo guardiamo e cerchiamo di sbloccarvi, non tanto sbloccarvi il codice, vabbè a volte c'è di dire metti una graffa qua, è facile, ma più che altro sbloccarvi il ragionamento, aiutarvi a capire dove si è bloccato eventualmente. Ok, fine praticozzo. Il laboratorio, sapete ci sono già i computer, voi tendenzialmente vi consiglierai di usare sui computer del laboratorio perché sono gli stessi che userete all'esame. Ok? Quindi così almeno siete già sicuri del software dove si trova, in che cartella, eccetera, la password per entrarci, le solite cose. È anche possibile, però sapete che logisticamente è un po' complicato perché lo spazio sui tavoli è quello che è, volendo arrivare col vostro computer, magari soprattutto se avete magari dei problemi di installazione, lo portate lì e cerchiamo di guardarlo insieme. nelle prime settimane c'è sempre qualcuno che ha ancora qualche problema di setup. Impareremo appunto, grazie a GitHub, a poter lavorare, passare un progetto facilmente da un computer a un altro. Perché direi, ma io ho cominciato a casa sul mio computer, adesso qua mi fai continuare sul computer del laboratorio. Sì, sì, ma è normale. Pensate che un progetto fatto da dieci persone, tutti a turno usino lo stesso computer per andare avanti sul codice. ma ci sono strumenti di condivisione, appunto questo guitar che impareremo, che sarebbero proprio per fare questa. Non possiamo inventare di noi questo problema oggi. Ok, per quanto riguarda il laboratorio, io ieri ho guardato l'elenco degli iscritti e più o meno due gruppi di uguale numerosità dovrebbero essere, diciamo così, identificati da queste lettere AKLZ. Adesso lo scriverò anche poi sulla pagina del corso. Non l'avevo ancora scritto perché, appunto, aspettavo come sempre compare sempre qualcuno ogni tanto nell'elenco degli iscritti con questi piani carichi a didattico che potete cambiare in qualunque momento dell'anno che per noi chiaramente crea qualche problema. E poi ogni settimana si inverte l'orario. Questo lo scriveremo poi sul calendario del corso così vi ricordate in quale orario venire. Allora, lo dico ancora più esplicitamente l'ultima volta, le prime settimane quando ci sarà la maggior parte delle persone vi chiedo per favore di venire nell'orario corrispondente al vostro nome. Più avanti cerchiamo di non perdere tempo a controllare i documenti, queste cosette qua. Ok, allora, tutto il resto del materiale, questa slide è sbagliata perché abbiamo migrato su un sito nuovo e quindi soprattutto il link è sbagliato, tutto il materiale del corso si trova in questo sito qua, in cui troverete tutto ciò che vi serve. Vabbè, la parte, poi vi dà informazioni che ormai non ci servono più, se non il link breve se volete ricordarlo che vi porta sempre a questa pagina. Poi c'è una parte, il materiale di studio, dove essenzialmente ci sarà il link alle slide che via via pubblicheremo, andremo avanti nel corso, quindi queste voci qua si trasformeranno poco per volta in link ai pdf delle slide e poi le video lezioni, di cui adesso ovviamente non ce n'è ancora nessuna, di tutte le lezioni che terremo qua in aula. Ovviamente registriamo in aula, in laboratorio invece non si registra nulla perché siete voi che lavorate, sarebbe abbastanza noioso registrare uno schermo bianco. E così come qua ci saranno i testi dei laboratori e i link ai progetti github del laboratorio da scaricare. sotto richiesto ci sono quei documenti che spero che abbiate già visto, che descrivono con un dettaglio esagerato i passi da fare per installare i software che useremo quest'anno in questo corso. Questo è il materiale di studio, poi il calendario delle lezioni è una tabella in cui trovate in modo cronologico ciò che faremo, quindi ci saranno anche dei cambi di orario, delle varianti eccetera, lo trovate qua. Quindi a fianco di un'elezione trovate il pdf delle slide corrispondenti, poi magari per alcune lezioni non ci sono perché faremo solo esercizi o perché continuiamo sulle slide della volta precedente, il pdf lo metto solo la prima volta che compare, che serve, e poi c'è eventualmente questa colonna materiale anche altro materiale tipo il link all'esercizio risolto o cose di questo genere, o i file su cui lavorare eccetera, e poi c'è la colonna video dove andremo finendo e dove metterò il link alla video lezione. Quindi vi trovate tutto qua, noi cerchiamo di programmarlo, beh esattamente ce l'abbiamo già programmato per tutto l'anno, ma cerchiamo di pubblicarlo almeno una settimana in anticipo così sapete prepararvi, vedete che argomenti si fanno, vedete già che materiale ci sarà e così via. Quindi questa tabella qua poi crescerà fino in fondo. E poi c'è l'ultima parte sull'esame che contiene, adesso poi ne parliamo, innanzitutto un link a un repository su GitHub dove ci sono tutti i testi d'esame degli anni precedenti, forse gli ultimissimi non mi ricordo se li ho già messi, ma comunque l'idea è di avere tutti i temi d'esame, e poi questo diagramma di flusso sullo svolgimento dell'esame lo commentiamo tra un'altro, ma ne parleranno poi anche meglio più avanti. Quindi questo è il sito da cui trovate tutto. Le video lezioni, io le pubblico sia sul portale della didattica, quindi ve lo trovate nell'app per le lezioni, sia su YouTube anche. Guardatevele dove è più comodo. A me costa poco avendo il file video caricarlo in due poste anziché in uno. Oltre a questo che è il materiale del corso fornito da noi, ci saranno, durante il corso faremo tanti progetti, tanti esercizi, tanti esempi, e questi li caricheremo tutti su questa piattaforma GitHub, che adesso ce l'ho citata tante volte ma non vi ho ancora spiegato, che conterrà, questo è il link all'area, il loro GitHub lo chiamo organization, diciamo così, l'area di lavoro TDP 2023, dentro i quali ci saranno i vari esercizi che faremo, che vengono chiamati in gergo repository. Quindi ogni volta che facciamo un esercizio in aula creiamo un nuovo repository dove alla fine della lezione potete andare, e noi alla fine la fine della lezione salveremo su questo repository il codice che facciamo in aula e poi lo potete guardare, scaricare, copiare nella vostra area eccetera eccetera. Quindi ciò che vi chiedo da adesso, entro un di prossimo, di crearvi un account su questo sito GitHub, poi vedremo insieme come lavorarci, come possiamo lavorarci noi ma anche voi. Adesso c'è solamente un repository che si chiama materiale che è quello in cui ho messo una copia delle slide, sono le stesse slide che sono linkate da quest'altra parte, questi PDF in realtà puntano a questo repository, ma poi soprattutto ci saranno tutti i vari repository per i lavoratori e per gli esercizi. Quindi questa è l'area di lavoro in cui ci sarà tutto il codice praticamente che faremo durante il corso. Ok. Quindi cosa ci serve per affrontare questo corso? Beh, come per i quiditi vi ho già accennato, continuiamo diciamo con un certo senso sulla falsa riga di programmazione oggetti per quanto riguarda l'utilizzo del codice Java, del linguaggio Java, andiamo a riprendere alcuni argomenti piuttosto che altri, approfondirli ma soprattutto cercare di metterli in pratica e poi le basi di dati. Delle basi di dati ci servirà essenzialmente per fare il select, per fare l'interrogazione. Ok. Che saranno meno contorte e complicate di quelle che vi facevano fare all'esame, di basi di dati, però saranno su dati veri, reali, non un database giocato con sei dati dentro le tabelle e fatte veramente, diciamo così, sulla base dati e non su un foglio di carta. Ecco, questa è un po' la differenza. E per il resto ci servono queste due cose. Cioè, metterci lì e spaccarsi il cervello davanti al computer. È un po' questo il succo. Quindi non abbiamo tanta teoria, non abbiamo tanta concetti, alcuni si ci saranno, ma i concetti tutto sommato sono pochi, ma richiedono, diciamo così, lavoro per essere digeriti. Quindi mettiamoci di buona voglia e sappiamo che dovremo spendere tempo a fare esercizi che poi non ci vengono e poi ce l'abbiamo e poi dopo ci riproviamo e prima o poi ce la facciamo e questo è poi il flusso di apprendimento che dovremmo affrontare durante questo forzo. Poi, chiaro che poi vi diamo tutto quello che vi serve, vi diamo le slide, vi diamo le video lezioni, eccetera, eccetera, ma non c'è nulla che possa sostituire voi davanti al computer che ci provate. Ok? Quindi non serve fare incetta di grosso materiale. Purtroppo dovete mettere del tempo. Ovviamente, come sempre, nella programmazione noi non andremo a risolvere cose che non sono mai state viste nell'universo. Quindi se lui dici, ma io c'è una lista, devo cancellare il penultimo elemento, come si fa? Magari un problema, ho fatto un esempio stupido, magari un problema che è già risolto mille volte, allora cerchi su Google e trovi qualcuno che l'ha già risolto e andrà a vedere. Poi magari non copia esattamente il codice perché magari è buggato oppure magari non si adatta esattamente al tuo caso di studio. Adesso va di gran moda chat GPT e cose di questo genere e anche lì ti danno delle bellissime risposte, poi può darsi che siano giuste, penso che a volte sono sbagliate, tante volte sono giuste. Però ci sono tutti questi strumenti che sono la nostra riposizione, a partire dal debugger, questa cosa qua è molto pixelata purtroppo è l'icona del debugger di Eclipse, non so se trovarne una più decente, cimice strana, Stack Overflow e Google ci danno risposte, chiaramente bisogna saper fare domande, ma anche questo lo faremo insieme perché capiterà sicuramente anche a me, a un certo punto, a un certo punto di scrivere qualche cosa, non mi ricordo come si chiama quella funzione, non mi ricordo come si usa quel metodo e andiamo a vedere la documentazione e andiamo a fare una ricerca su internet. Lo facciamo durante le lezioni, lo fate durante il laboratorio e lo fate durante l'esame. Se io ho l'esame vi lascio usare internet, potete usare qualunque cosa, anche perché dicevamo cerchiamo di metterci in un setting realistico, non è realistico dire tu devi scrivere un programma ma non puoi fare nessuna ricerca su internet, sarebbe sadistico questo, non realistico, devi impararti a memoria tutta la documentazione di tutti i metodi, ma siamo pazzi. La documentazione c'è, è online e non solo la dobbiamo poter usare ma dobbiamo imparare a leggere, imparare a cercarla, questo credo sia altrettanto importante che saper scrivere il programma. Tanto la risoluzione del programma non la provate, se lo sapete cercare la risoluzione ai singoli ingredienti. Poi ovviamente le slide, come dicevo i powerpoint ve li diamo, ma il materiale che vi diamo appunto sarà tutte le slide, le slide le ho scritte in inglese ma questo non è mai stato un problema negli anni passati, tutti i progetti che facciamo in aula, tutte le soluzioni di laboratorio che sono tutte su Github e tutte le video lezioni, questo è il materiale, diciamo così, più che sufficiente, diciamo così per lo studio dell'esame. Qui ci sono alcuni libri che avevo indicato ma non sono particolarmente diciamo così importanti o utili, alcuni sono un po' vecchiotti. L'unica cosa che eventualmente se qualcuno di voi fosse, perché succede a volte per le magie del carico didattico, che qualcuno arrivi al secondo semestre non ha seguito il corso di programmazione oggetti, allora questo testo qua, Let's First Java, è un testo che a me piace, non so se si trova ancora facilmente, ma si trova, è un testo molto informale, è abbastanza rapido, che può servire di andare a imparare i concetti principali su Java che ci possono servire. Io credo di non averlo più messo quando abbiamo migrato al sito, ma lo aggiungo, vi do poi l'informazione di quali sono i capitoli di questo libro che possono essere utili per riprendere la programmazione in Java per chi non avesse fatto programmazione oggetti oppure dormisse durante le lezioni. e poi abbiamo tutti gli strumenti software, quindi Java, useremo Java 17, un programma che chiama SimBuilder che ci aiuterà a disegnare le interfacce grafiche, useremo Eclipse, useremo un database, semplicemente MariaDB, che è una versione di MySQL, ma alla fine va bene anche MySQL, installato sulla nostra macchina, una serie di librerie Java che poi vi indicheremo quando faremo le varie cose, ad esempio c'è una che sia utile per calcolare e gestire le coordinate geografiche, le longitudine, sono libriette semplici, librerie per gestire i grafi, per gestire i file, il database e così via. Questi sono gli strumenti che vi avevo già citato nel documento di installazione. Allora, su GitHub vi ho detto, è meglio se vi iscrivete, poi dopo pareremo di usarlo, ma almeno cercate di iscrivervi entro la settimana prossima, entro in lezioni della settimana prossima, in modo da poter già iniziare l'undi prossimo a scambiarci i codici su questa piattaforma. Vai lì e fai il solito join. Ecco, quello che vi suggerisco è di, lì dovete scegliervi un nickname praticamente, non usate la matricola. Allora, registratevi con l'indirizzo di mail del Politecnico perché così vi riconosce come studenti e avete accesso gratuito a delle funzionalità che altrimenti sarebbero a pagamento. Quindi la mail di registrazione usate quella ufficiale del Politecnico, ma poi come, diciamo così, nickname su cui pubblicherete le vostre cose, io vi inviterei a sceglierne uno che sia vostro, non la cacchio di matricola che poi se va bene tra tre mesi, quattro, non la cambiate, ok? E poi non ha nessun significato. Quindi qualche cosa, adesso sta diventando abbastanza frequente il fatto che uno, penso anche nel proprio curriculum, va a mettere il link alla propria pagina GitHub per far vedere le cose che ha fatto, nel caso degli informatici molto, molto frequente. Però ci sta espandendo anche abbastanza questa prassi. Un po' come i designer, se così, hanno il loro portfoglio in cui fanno vedere i lavori che hanno fatto, ecco, per i lavori tipo più, diciamo così, non solo software, ma tipo più informativo, questo è, quindi pensate di avere un username, pensatelo per il futuro, non pensatelo per il corso, ok? E poi ci sarà un meccanismo molto contorto per riuscire a condividere l'accesso a GitHub che avrete con una password che vi create per farli accedere ai clips, ma sta cosa qua non ci pensiamo con calma. L'altra cosa, l'altro servizio online invece che useremo pesantemente durante il corso è il gruppo Telegram, ho visto che molti, non so se tutti, ma molti si sono già iscritti, adesso siamo in quanti? 119, quindi mancano ancora centine di persone rispetto al numero totale di... Il link ovviamente non lo potete ricopiare da qua, ma sul sito del corso c'è, quindi nella parte di introduzione, qua sotto c'è il link al gruppo Telegram e potete cliccarci sopra, iscrivervi. E questo vorrei che fosse il canale di comunicazione privilegiato, vabbè, noi lo useremo sicuramente per dare avvisi, magari pubblicare il link al materiale che, diciamo così, man mano che lo pubblichiamo, eccetera, ma è aperto, quindi iscriveteci anche voi, fate domande, rispondetevi a vicenda, diciamo così, al di là di ciò che facciamo, diciamo così, nelle ore di lezione, di laboratorio, usiamolo pure liberamente e non abbiate problemi e diremo, guarda, questo qua non mi viene, tanto impareremo a condividere i codici su GitHub e quindi voi dice, guarda, questo qua non mi viene, questo è il link al GitHub dove ho provato a farlo, dateci un'occhiata e usiamolo come metodo di lavoro. Possibilmente evitiamo le mail, per favore, evitiamo i messaggi privati, a meno che non siano cose veramente personali, ma dire, guarda, quello non mi viene, non è una domanda personale, semplicemente fa parte del gioco, come dicevamo, e ci aiutiamo a risolvere, a debaggare i programmi insieme. Due parole sull'esame, è un po' prematuro parlarne adesso perché non sappiamo ancora bene cosa impareremo a fare, ma se non lo facessi, mi gridate, come avviene l'esame? Allora, l'esame di fatto è uguale agli ultimi due laboratori del corso, cioè vi diamo un esercizio, cioè come stile è uguale a tutti i laboratori del corso, vi diamo un esercizio e lo dovete risolvere, l'esercizio sarà pubblicato su GitHub, ve ne fate una vostra copia e ci lavorate e poi salvate su GitHub la soluzione, la differenza è che all'esame chiaramente siete controllati mentre nei laboratori fate quello che volete. Quindi vi forniamo un progetto con uno scheletro un programma, un testo descrittivo, un database che contiene i dati su cui lavorare e vi chiediamo di implementare certe funzionalità. Database tra l'altro che sarà noto, nel senso che noi le ultime due settimane del corso faremo due simulazioni d'esame, l'ultima e la penultima settimana, in queste due simulazioni d'esame vi presentiamo due database nuovi che non abbiamo mai usato durante il corso, ma che saranno quelli che saranno utilizzati negli esami, negli appelli di quest'anno. Quindi sono database che già avete modo, abbiamo modo di vedere, conoscere prima, sapete già come sono i dati, le tabelle, in modo da non perdere tempo poi durante l'esame a studiarsi la struttura dei dati. L'esame avviene nel laboratorio LEP, sui computer del laboratorio, tastativamente, avrete accesso a tutto, quindi potete portarvi dietro il codice, potete portarvi gli esempi, gli slide, avete accesso a internet, quindi l'unica cosa che non potete portarvi dietro è un amico, oppure comunicare con qualcuno durante l'esame. Tutto il resto, diciamo così, è permesso. Infatti noi normalmente vi lasciamo un po' di tempo all'inizio, prima di iniziare l'esame, quando siete già seduti a computer, eventualmente per importarvi, copiarvi dei programmi, magari gli esercizi che avete fatto durante il corso, quello che volete. In modo da mettervi nella condizione di poter affrontare il problema avendo a disposizione tutti gli strumenti e l'informazione che vi fanno. La prova di programmazione dura due ore e si svolge su più turni. Si svolge su più turni perché ovviamente, soprattutto nei primi appelli, siete in tanti e le macchine del laboratorio sono 35-40 e quindi non ci stiamo tutti insieme. Di solito il primo appello tendiamo a fare tre turni, quindi cominciamo alle 8 del mattino e finiamo alle 7 o alle 8 di sera. Alla fine passano tutti, ci sarà tempo per tutti. Sono un po' pesante la giornata, ma più per noi che per voi, perché voi alla fine 20 minuti non so. Però su questo facciamo così, questi dettagli li vedremo poi più avanti. l'esame è fatto sempre di due domande che con tanta fantasia abbiamo chiamato 1 e 2. La prima domanda è il minimo, il minimo sindacale. Tipicamente la prima domanda vi si chiede di prendere quel database, leggere i dati del database, costruire un grafo, nel 99% dei casi dei casi, costruire un grafo e poi su questo grafo fare una minima interrogazione, navigazione, analisi, eccetera. Dimmi su questo grafo quali sono i tre vertici che hanno il numero massimo di arti, che la somma dei pesi sia disperto, non so quello che è. Una qualche cosa a cui cerchiamo di dare un senso, non sempre ci riusciamo, perché dovendo poi fare tanti testi diversi a ogni appello, non sempre si riesce a fare qualcosa che il cui risultato abbia poi in utilità pratica e tangibile, però ci proviamo. Allora questo è il minimo, nel senso che arriveremo a saper fare queste cose a metà corso. Poi la seconda metà del corso faremo quelle più interessanti, introdurremo la ricorsione, introdurremo le simulazioni di eventi, eccetera, e il secondo punto è o un argomento di ricorsione o un argomento di simulazione di eventi che lavora sul grafo che è stato creato nel primo punto. Del primo punto pretendiamo che funzioni e lo verifichiamo subito. Quindi per quello ho detto che siamo tre turni, riusciamo a fare tre turni in una giornata sola lavorando 12 ore, perché noi facciamo l'appello, vi diamo, vi siediamo al computer, vi diamo una ventina di minuti di tempo per sistemarvi, controllare che il clip sparta, vi importate il progetto che vi serve, eccetera, eccetera, più o meno in venti minuti tutti riescono ad essere a posto, poi due ore di lavoro vostro, poi al termine delle due ore vi diciamo uscite, andate un attimo a riprendere la sanità mentale, e poi temenzialmente vi chiamiamo uno per volta a vedere insieme il progetto che avete fatto. E guardiamo le funzionalità del punto 1. Funziona? Non funziona. Poi non è proprio un no brutale perché sono 21 punti, se funziona ma c'è un'imperfezione allora scaliamo un punto 2 e diciamo comunque c'è sufficiente. se funziona vi mandiamo a casa, sapendo a quel punto che avete un voto sufficiente, diciamo ok questo qui è 20 punti, ma non è il voto finale perché poi noi andiamo a guardarci ciò che avete fatto per il secondo punto e lo correggiamo e gli diamo una valutazione, che vi darà poi la valutazione finale. Ok? Quindi perché questo meccanismo qua? Ma perché so già che a giugno siete tutti totalmente in ansia perché c'è una scadenza della laurea e cose di questo genere, quindi sapere se ho passato un esame o non ho passato il giorno stesso, fa la differenza, no? Per potervi organizzare sugli altri appelli. Poi magari non sai esattamente il voto, ma tanti dicono guarda io mi devo lavorare però il voto un punto in più, un punto in meno non è che mi cambia. A quel punto se poi andate a vedere se questo è uno degli ultimi esami, no? Perché siamo nell'ultimo semestre di corso, se vuoi prendete 18, prendete 30, quanto vi sposto alla media? Quindi è importante il fattore tempo e ovviamente correggere dei compiti di programmazione richiede del tempo. La logica con cui li correggiamo è molto diversa, mentre se il punto 1 sono cose di base, quindi devono funzionare e dovete saperle fare, sul punto 2 magari non è così banale, infatti sul punto 2 non andiamo a vedere se funziona, se funziona meglio, 30 e l'ora ce n'è posto, ma anche se non funzionasse andiamo a cercare di capire il ragionamento che avete fatto, il codice che avete fatto, coraggiamo nel merito, diciamo così, dell'algoritmo risolto, non solo funziona o non funziona. Per questo ci vuole un po' di tempo, ok? E allora, dopo un po' vi daremo il voto, ma nel frattempo sapete già organizzarvi la laurea, gli altri appelli, eccetera, eccetera, sapendo che se l'avete passato o se non l'avete passato. Tanto più o meno un'idea di come l'avete fatto se l'avete, no? Se ho scritto solo due righe e basta, sarà zero punti. Se invece non ci ho provato, più o meno funziona, ma si pianta a metà, allora sarà un certo numero di punti, ok? Questo è un pochino il meccanismo e questa parte di valutazione ci porta via circa un'ora almeno per ogni turno. Adesso siamo in tre docenti, quindi riusciamo ad andare in parallelo su tre, però siamo quei 5-10 minuti a testa per andare a vedere quello che avete fatto, ci vogliono e quindi i turni durano due ore di scritto mezz'ora per andare a uscire, un'ora di valutazione, sono quelle tre ore e mezza per cui ce ne stanno tre in una giornata. L'anno scorso abbiamo avuto un appello con una affluenza record, per cui non ci sono neanche bastati tre turni in laboratorio e allora abbiamo fatto un overflow in aula, nel senso che un certo numero di studenti che, diciamo così, a stasera dato disponibile, ha fatto l'esame identico ovviamente, ma in un'aula col proprio computer, proprio perché sarebbero serviti quattro turni e non si poteva stare qua la notte, per fortuna, e il giorno dopo no, perché non andiamo a scombinarvi l'appello degli esami facendo un esame che deborta il giorno successivo. Vedremo i numeri, tutti questi dettagli qua li potremo vedere quando avremo i numeri di prenotare e quanto saranno messi bene o male gli appelli in una sessione, perché questo poi pilota voi se voi venite il primo secondo appello. Questo flowchart cerca di assumere ciò che vi ho detto a parole, ma come vi dicevo, verso la fine del corso lo andiamo a riprendere con calma, anche con le funzioni poi pratiche di come fare a prendere progetti, dove salvarlo, eccetera. Ci sarà una procedura che si chiama GitHub Classroom proprio per far questo. Vabbè, questo l'avete già guardato di sicuro, perché è la prima cosa che guardate di un corso, questi sono i superi dell'anno scorso, dello scorso l'anno accademico, non è un corso terribile, ha visto i numeri, la differenza, c'è una differenza che ci tengo a rilevare, quasi del 10% di percentuale di passaggio tra chi lo supera nell'anno in corso e chi lo supera invece in ritardo. Ma perché è il tipico esame che se voi riuscite a seguire i laboratori, l'esame vi fila via liscio, perché come vi dico, gli ultimi due laboratori sono già esami, esattamente identici, ma noi già da metà corso gli versi che facciamo vanno a coprire esattamente il primo punto dell'esame. Quindi noi i temi di esame in pratica, mi piace sempre dirlo, io li faccio da aprile in avanti, da dopo Pasqua in avanti facciamo già i temi di esame. Quindi se riuscite a tenervi il passo con i laboratori, ma non guardare il vostro amico che li fa, o guardare noi che mettiamo in soluzione, ma provare a farli, l'esame vi dovrebbe diciamo così. Se invece lo lasciate venire facile, naturale, se invece rischiate di dire mamma lo studio dopo, è già il verbo sbagliato questo, perché studio non riflette tanto il tipo di preparazione che dobbiamo avere. Non è che ti riguardi le lezioni tre volte, oppure ti rischi di codice, le soluzioni, no. E quindi diventa poi difficile anche poi trovare il tempo di farsi esercizi da soli, senza qualcuno cui chiedere, per prepararlo magari l'anno successivo, il semestre successivo. Quindi il suggerimento che vi do è cercare di approfittare di queste tante ore di laboratorio che abbiamo, per arrivare all'esame senza più dover studiare. Questo lo dico in teoria, poi in pratica mi ritrovo con una distribuzione di voti di questo genere, che ogni volta mi fa piangere dentro, perché si vede chiaramente che c'è una certa, adesso qui non faccio l'integrale di queste curve, non so quanto valga, però sono due gruppi, uno attestato intorno al 18-20-21 e l'altro attestato intorno al 26-30. E ciò che mi dispiace è che ci siano persone che puntano con queste regole esame che avevo dato, che come dicevo sono per facilitarvi il tempo, la velocità di superamento dell'esame, ci sono persone che puntano solamente a prepararsi per il primo esercizio dei due. Poi potete dirmi, le hai fatte tu le regole d'esame, quello ti lamenti. Ed è vero, il problema è che così andare incontro ha un rischio incredibile, perché io tutte le persone che boccio sono quelle che sono preparate solamente per il punto 1, ma non per principio, ma perché se tu ti prepari per il minimo, la minima cazzata che fai quel giorno, vai sotto il 18, scusate il termine. Mentre invece chi si è speso un pochino di più per prepararsi per la parte più difficile, onestamente la prima parte gli viene senza difficoltà. Non fatica a fare il primo esercizio, è standard, perché tanto oramai lui l'ha superata questa fase perché si sta concentrando su cose più complicate. Chi si prepara solo su questa parte, vedo che faticano come dei matti per delle banalità, ma perché se il tuo livello di preparazione è quello, stai andando, stai di fatto puntando a giocare su questi due punti qua. Sapete che in un esame i due punti possono andare a venire facilmente, non sbaglia a leggere una parola o non ti viene una certa cosa e tu saprei solo far quello, vai sotto. Quindi, poi so che sono parole buona parte al vento, ma il mio consiglio è quello di dire non fermatevi qui, ma cercate di andare avanti, cimentarvi anche e soprattutto nella seconda metà del corso, perché è quella che vi rende facile la prima metà, oltre a non rischiare di perdere. Purtroppo sono anche, mi rendo anche conto che ci sono anche delle situazioni, uso un termine, drammatiche, perché ci sono persone che se non passano quell'esame gli salta la laurea e questa è tutta una serie di conseguenze sul lavoro, eccetera, eccetera. Quindi, già arrivate da lì con un carico emotivo abbastanza forte e quindi cercate di metterli in una situazione, diventa molto imbarazzante, anche nel momento dell'esame, dover andare in un punto in più o meno, perché è puntato al minimo. Ok, questo conclude, direi sì, l'introduzione che volevo fare, la cosa che volevo raccontarvi su questo corso, come sempre le due cose più importanti sono il riferimento a questa pagina qua, dove ci saranno tutte le informazioni e ovviamente il canale Telegram dove invece avremo tutte le comunicazioni, poi qui ci sono le nostre mail, ma cerchiamo, come dicevo, di non usarle se non per questioni effettivamente personali. Ok, ho dimenticato di dire qualcosa che vi sarebbe interessato sentire, vi annoiate abbastanza? Ok, allora se non ci sono dubbi su questa parte, come dicevo sulla parte di esame torneremo poi tra 90 ore di lezione, inizierei a entrare nel primo argomento del corso.